ciao fede ciao non mi sento mio agio che succede sarà una puntata in cui non mi sentirò mio agio oddio perché perché sono in hotel è un hotel che ha le pareti sottili e mi immagino che disturbo gli altri clienti io parlo basso ma che cazzo faccio un podcast che parlo a bassa voce o se no mi sento che qualcuno non è contento c'è anche l'effetto vlogger che non ha il coraggio di vloggare in mezzo alla gente sì mamma mia vabbè dai ma si fa terrò io sullo spirito e tu farei dei commenti sottovoce un po annuisco muovendo la testa che nel podcast funziona bene può andare bene senti guarda parto io subito con una cosa che potrebbe scioccarti a bruciapelo rispondi da quanti anni facciamo il podcast e dal 2000 dicembre 2019 quindi tre 20 21 eh sì tre anni però in realtà sono cinque perché cinque 19 20 21 22 23 no e per 19 era finito di fare 20 21 22 23 guarda che siamo 23 a gennaio 2023 sono quattro anni vabbè comunque sono cinque anni per me vabbè ok quindi è ora di finirla basta avevamo detto che a cinque smettavamo allora è vero no va bene dai allora benvenuti a tutti questo è hacking creativity è un podcast che parla di creatività e intervistiamo un sacco di persone ogni tanto facciamo questo link è un link dove c'è un'energia pazzesca di federico è un timidone dall'altra parte dentro un hotel che parla piano perché non vuole svegliare la gente che o dorme o non vuole disturbare chi fa sesso dall'altra parte e quindi niente partiamo come andata la settimana che non ci cioè non ci siamo sentiti molto questa settimana no 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 cos'è combinato sei chiuso in una stanza a scrivere no sono stato a torino cinque giorni su sette per cui alla scuola olden a fare il maestro fatto fare il maestro ieri il treno ha avuto due ore e mezza di ritardo e quindi sono arrivato a casa tipo alle 11 che per i miei standard capisci è un problema ma sai che ero in stazione ero in stazione alle otto meno un quarto ho visto un milano torino due ore in ritardo chissà se c'è federico di sopra eri tu? eh sì era around tutto il nord est d'italia si è fermato ma cosa stai insegnando sceneggiatura? sceneggiatura sì faccio questi training camp e stiamo portando avanti due gruppi come sono questi studenti? sono interessanti ma sai benissimo l'ho già detto varie volte che il mio obiettivo non è quello di formarli ma di distruggere per evitare concetti per cui dico sempre se siete bravissimi è bravissimi e poi in realtà gli insegno un cazzo no non è vero no sono sono le storie sono belle quindi è interessante lavorarci per me è proprio bello mi incuriosisce questa cosa cioè cosa come funziona non è uno spot ma voglio capire voglio imparare a scrivere delle storie sì e da che parte la prendi e la prendi che arrivi lì con un'idea che di solito è abbastanza la cosa bella di questi corsi è che lavori sulle tue idee quindi non è una cosa diciamo teorica c'è anche teoria ma è molto più pratica perché tutta la parte teorica la metti subito sulla tua idea di solito arrivi con un'idea che ti merda? no non è vero che è di merda no perché c'è una selezione per cui diciamo ah ok no immaginavo ho scritto il nuovo game of thrones eccolo perfetto next no e ci sono due livelli nel caso in cui tu voglia arrivare ad un concept quindi queste 10 12 pagine si lavora in serie si parla sempre serie tv sì cerchi di arrivare a queste 10 12 15 pagine in cui racconti come è fatta sta serie se invece c'è il livello 2 si scrive un pilot quindi proprio la vera e propria sceneggiatura lì hai già un concept e scrivi un pilot e quindi bello per sei mesi c'è un toddy weekend ci sono un sacco di scambi di cose correggo un sacco di compiti e ti dico sono due cose molto belle in ordine di importanza sono a il rapporto con queste persone nel senso che c'è uno scambio di energia positiva bellissimo gente giovane quindi magari rimane con le orecchie l'antenne su quello di cui parlano gli interessi di quelli peggiori sì sì però va dai capito dai 20 ai 45 50 per cui ci sono varie ed è anche bello che sono questi gruppi misti dal punto di vista proprio dell'età na grafica quindi interessante però l'altra cosa importante è che quando tu insegni continua ad imparare perché comunque ti specialmente quando lavori sulle storie degli altri dando consigli studiando smontando rimontando comunque stai mettendo altro fieno in cascina dei tuoi skill bravo beh bravissimo partiamo coi link dai partiamo se vuoi visto che che ciao nick tra l'altro ciao ragazzi e ciao a tutti gli ascoltatori che ogni settimana mi mandano migliaia di messaggi d'apprezzamento grazie davvero di cuore nick ormai mi sembra che sia sia mutinato rispetto alle sigle nuove quindi noi si sta facendo finca di niente non non dice niente non chiede no parlo solo in presenza del mio avvocato io parlo solo è nel contratto che non esiste il fatto che deve farsi una sigla ogni però dai andiamo con i link tra l'altro c'è un sacco di gente nuova per cui dirà ma io ascolto sto podcast cosa fanno questi due parlano delle loro cose no parliamo di link la sigla ce l'abbiamo è la sigla del treno di link di fede per cui vai nick fantastico vado velocissimo sono tre link che proprio veloci 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 il primo si chiama youtube transcript.com sai che uno sempre la fomo di dover vedersi un miliardo di video di non perdersi tutte le cose nuove che succedono butti dentro il link e ti fa una trascrizione perfetta ben impaginata del video ti leggi i video di youtube ma questa guarda che è una roba solo tua ma io ci impiego un quinto del tempo anche per i podcast è perfetto ma il bello di youtube è che guardi accelerati i video e ti leggi video ma tu sei un dipendente statale hai tempo capito io che sono un imprenditore non ho tempo capito ma appunto leggi ci mette certo se mai sei solo tu che usi sta cosa cioè che vai più veloce a leggere che ha guardato un video a due per comunque no ma certo che sì ma vai cinque volte più veloce ma non apriamo questo questo argomento ok secondo link velocissimo è una lista di 99 belle cose che sono successe nel 2022 che ti fa proprio proprio bello bello tipo tutti i progressi che ne so sui diritti umani sul blambiente ci sono 99 non andiamo nello specifico è un link veloce però ti mette proprio ti fa vedere il mondo dall'altra parte visto che leggiamo sempre solo cose negative invece sono successe un sacco di cose positive domanda prego facciamo un piccolo spoiler ma devo farti una domanda visto che parlavamo di scelgiatura storia spoiler settimana prossima pubblichiamo la puntata in cui intervistiamo chi chi intervistiamo stefano nazi nazi mi chiamo stefano nazi faccio il giornalista da tanti anni che giornalista che questo podcast indagini che sta leggermente andando che siamo a indagini abbiamo fatto un'intervista settimana prossima ci sarà però di cosa parliamo del fatto che gli esseri umani sono attratti no da le storie coi morti ammazzati no il crime no true crime come si chiama adesso no perché uno si immagina guarda ero a cena l'altro giorno con una coppia con una mia amica fai devo fare un tragitto in pullman di un'ora al mattino e lascio la bambina insomma dai nonni salgo su e poi mi metto nazi per un'oretta indagini e poi arrivo al lavoro e ho chiesto ma riesci ascoltarti storie omicidi erba garlasco mattino così no e uno dice boh al mattino cerchi qualcosa di leggero invece no la domanda è visto che parli di cose belle e di mi ha parlato di storie morti ammazzati perché siamo più attratti da storie con dei problemi rispetto a storie in cui va tutto bene tutto liscio perché il nostro cervello è da millenni è abituato a difendersi e comunque ha come ha come priorità la sopravvivenza per cui rispetto alle buone notizie che sono diciamo che non non sono pericolose invece tu hai bisogno di informarti e di capire sei più attratto dal male perché il male ti fa paura per cui comunque è una cosa atavica cioè quando vedi qualcosa che ha a che fare con il sangue con il possesso con la vendetta con cioè comunque ti senti inconsciamente dici essere umano dice mi può essere utile questo è il ragionamento no sono le famose ti ricordi soldi sesso e no e il sangue cioè sono le tre s che ti che attraggono su sempre tutte le persone perché non possiamo fare a meno di 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 essere attratti da queste cose ed è il problema per cui le buone notizie le do solo io perché non ci sono mai ci sono mai nei giornali è vero perché non non attraggono ed è il grande è il grande drama ma è vero ti ricordi report tre ore di scandali inchieste poi alla fine mettevano good news proprio tipo ma chi se ne frega una e mezza quando non guarda più nessuno per dire successe cose belle anche ma chi se ne frega va bene grazie ma questo è un grande è un grande tema questo è questo qui del fatto che le che le good news non si riescono a veicolare perché non c'è il dramma all'interno cioè si potremmo fare 5 6 puntate però andiamo avanti l'ultimo link di questo trenino che era una freccia rossa e tu hai fatto diventare un regionale col tuo intervento ma non importa ho letto questo long form bellissimo si chiama the big book su esquire e parla di questo robert caro che è uno scrittore che da praticamente 40 anni sta scrivendo la storia la biografia di lyndon johnson uno dei presidenti americani da 40 anni sta uscendo il quinto volume tutti i best seller lui non fa nient'altro nella vita da 40 anni che andare in questo ufficio di new york e scrivere a mano prima tra l'altro questo incredibile questa incredibile e infinita biografia ma è un uomo pazzesco ma viene letta questa biografia sono tutti best seller ma dai e quanto c'è da scrivere su quanto uno abbia fatto cose importanti nella vita cioè sono tutti tomi da capito 200 scusami da 600 700 pagine madonna ha vinto vari premi eccetera però insomma vi invito perché è una storia pazzesca che vi fa tornare indietro nel tempo la routine sì la routine è pazzesca però sai cos'è è una perché l'ho letto perché mi ha fatto molta invidia cioè io sono diciamo il re del finto multitasking faccio milioni di cose no indudendomi di farle contemporaneamente in realtà sono una dietro l'altra mi creano ansia questo si sveglia un solo pensiero nella vita da 40 anni cioè andare avanti con un singolo progetto cioè mi piacerebbe un giorno diventare come lui ecco questo è un po questo è il motivo per cui che palle lo consiglio dipende dipende cosa fai bene quindi questo era il treno grazie nick tra l'altro ho sentito una sigla di chiusura nuova nick o sbaglio tipo così sigla di chiusura no ma no possiamo fare qualcosa di più elaborato tipo sigla di chiusura la roba così comunque ci stiamo avvicinando anche a san remo nick invece di essere in modalità già liss mettiti in modalità capito qualcun altro no ma infatti sto già pensando un pezzo trap per la prossima sigla vediamo un po bene cosa faccio vado avanti sì ho letto un sacco in questi sarà anche che il treno ha fatto due ore e mezza di ritardo però ieri sono capitato in un blog post di james clear che l'autore di atomic habits è presente quello famoso insomma venduto non sono neanche riuscito a finire il libro però no certo ma fa parte della mia routine aprirli esatto aprirli e arrivare a 100 pagine e lui parla di questo modello mentale molto interessante dell'inversione l'obiettivo di questo esercizio fondamentalmente che poi vedremo ti faccio un po di esempi può essere applicato a tante cose è quello di immaginare non i risultati e quello che andrei a diciamo gli eventuali obiettivi come sempre le cose negative quello che potrebbe accadere cioè fai solo ed esclusivamente il worst case scenario ma questo su cioè io voglio raggiungere un obiettivo e devo pensare a tutto quello che può andare storto cioè questo mi mi può aiutare a raggiungerlo perché perché l'inversione è un potente strumento sto leggendo chiaramente di pensiero perché mette in luce errori ostacoli che non sono evidenti a prima vista cioè questo è il meccanismo ed è molto interessante cioè tu dici voglio raggiungere capito 100.000 iscritti a hacking creativity ok quindi quali sono tutti i motivi per cui potrebbe fallire ti banneranno da instagram non ti cagherà nessuno le tue puntate non sono abbastanza vincenti oppure non avrai abbastanza ospiti interessanti non fai abbastanza contenuti non fai abbastanza advertenti vedi come come è bello sì è vero non solo ti prepari ma dici aspetta trovi già delle aree di miglioramento lui fa un esempio che mi ha molto colpito no e dice in irvana capovolsolo completamente le convenzioni della musica rock e pop mainstream cioè i gruppi metal di quel periodo di poison death leopard spendevano milioni per produrre i loro dischi loro hanno speso per never mind che ha venduto giusto un paio di copiette 65 mila dollari per cui sono andati totalmente contro no e quindi questa inversione il nostro james sostiene che è al centro della grande arte cioè perché è la cosa che fai di solito per andare a come dire rompere lo status quo e quindi artisti innovatori si distinguono spesso proprio perché hanno fatto questo ci hanno pensato all'opposto c'è un bel ted ex di tim ferris che non parla esattamente della stessa cosa però anche lì ribalta un po un pensiero che dice sostanzialmente non ragionare non scrivere gli obiettivi no oppure gli step che ti ti porteranno quel tuo traguardo ma prova a elencare tutte le pure che hai che non ti permettono di raggiungerlo nel senso che spesso questo a me capita sempre stai giochicchiando sulle attività più piacevoli e facili tentando di raggiungere quell'obiettivo quel traguardo quando in realtà se tu facessi quelle cose che ti fanno paura forse lo raggiungeresti più velocemente sì quindi sai ti coccoli nel ci ho provato dai invece di no devi fare quella cosa lì per esempio voglio scrivere un libro no e magari dici beh aspetta inizio a fare il design della copertina scelgo la carta allora vediamo la grammatura come il font sì ma compriamoci una macchina da scrivere di quelle analogiche digitali no aspetta mi creo un po l'atmosfera routine mi sveglio un'ora prima non hai ancora scritto niente dovresti forse metterti bam 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 sanguinano le dita scrivi allora forse stai avvicinando a quel libro finisco un po questo argomento che secondo me ci sono delle cose ancora interessanti no quindi lui dice cioè ad esempio se l'innovazione è un elemento fondamentale del tuo modello di business la domanda che devi farti è come possiamo rendere la nostra azienda meno innovativa cioè è interessante questo esercizio perché ti metti lì e dici tutto quello di sbagliato che possiamo fare no oppure sei uno che vende cosa potrei oppure che ha un grande cliente importantissimo no quali sono tutte le cose che potrei fare per perdere questo cliente e quindi automaticamente tu ti crei una lista di diciamo di una to do list contraria di cose che assolutamente devi evitare evitare ma ti fanno pensare anche cosa dovresti fare bello e qui c'è un'altra parte dell'esercizio secondo me la più interessante cioè lui dice adesso immaginati l'obiettivo il progetto più importante su cui stai lavorando a questo momento ok ce l'hai però pensare ok adesso fai un flash forward di sei mesi e devi immaginarti che il progetto è fallito ok bellissimo step 2 ok step 3 devi raccontare la storia di come è successo devi scrivere che cosa è andato storto quali errori hai commesso come hai fallito però evitiamo tantissimo sti pensieri cioè cerchiamo di evitarli sì perché sono chiaramente controintuitivi rispetto a no cioè pensi sempre a che meraviglia che sarà arrivare lì sono figli del just do it be angry be foolish sì 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 anche l'immaginario di immaginalo e lo otterrai la legge dell'attrazione la legge dell'attrazione desicre se tu ti immagini quel futuro positivo lo raggiungerai no e lui dici se mi immagino quel futuro negativo mi convinco che non ce la farò è veramente bianco nero rispetto a tutta la letteratura tutto il pensiero però secondo me secondo me devi fare entrambi questo è il grande segreto e l'aggiunta di favolta a questo articolo devi fare entrambi è un servizio è un servizio questo ancora un altro un altro un'altra cosa dobbiamo fare ma fai un'altra start up basta ne sforni una ogni mese una start up no basta sempre quella quella che tu paghi diventano uno diventa il tuo capo ti manda i task controlla se hai fatto i task se sei freelance ne abbiamo parlato si ne hai parlato tu chiami chiami questo e allora un'idea bellissima vorrei in sei mesi scrivere questo libro fare questo progetto lui dice non ce la farai mai ma schifo andrà tutto storto sei scarso per la prima mezz'ora e poi la seconda mezz'ora facciamo il planning guarda che invece in realtà è figo mentre piangi no dai però adesso lavoriamo per lui fa un altro esempio poi chiudiamo questa parentesi però diciamo il il suggerimento potrebbe essere questo pensate a un obiettivo fate il andate avanti a sei mesi un anno fatte la peggior situazione possibile fallimento totale fate un elenco poi però accanto proprio perché forti di tutte le cose che potete fare per sbagliare fate invece il la roadmap giusta perché comunque vi ispira questa cosa questo esercizio qua perché quando fai la roadmap giusta chiaramente hai già visto un po di cose che potrebbero andare storti e quindi bello bello interessante chiudo lui fa un esempio anche interessante su marie condo quella che metti in oro del decluttering esatto e anche lei suggerisce di fare il contrario di quello che ti aspetti perché dice dovremmo scegliere ciò che vogliamo mantenere non ciò di cui vogliamo sbarazzarci che è un modo completamente diverso di pensare a devo liberarmi di tutti questi libri no fermati scegli i libri che vuoi tenere quello è l'esercizio da fare bello bello quindi ci lasci il link da qualche parte ma certo che vi lascio il link magari sugli appunti di hacking creativity che escono ogni venerdì che sono gratuiti tra l'altro ma che fantastico no gratuiti ma c'è la fregatura cioè sono gratuiti sono gratuiti le 10 uscite poi se vuoi leggere tutte quelle passate devi con migliaia di link catalogati uno per uno tra l'altro se vogliamo se vogliamo proprio fare diventi subscriber entri nella nostra community hai accesso a tutti questi link hai accesso al gruppo telegram hai accesso a tante tante cose volevo solo chiedere a nick che invece della sigla ci mettesse un d'accordo visto che eravamo in modalità vendita secondo me ci stava ok certo no sta andando molto bene come stanno arrivando un sacco di veramente di iscritti nuovi veramente tante c'è stata una piccola ondata no interessante gente in giro per l'europa tra l'altro sì 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 bello ragazza d'amburgo un'olanda bello bello molto bello però visto che parliamo di community lo facciamo rapidamente si stanno organizzando un sacco di webinar gratuiti trello mirò come fare come fare questo second brain feedback case history di cose che hanno fatto di progetti che hanno fatto loro cioè pazzesco bellissimo infatti è difficile starci dietro e bisognerebbe avere due tre giorni liberi a settimana per seguire tutto però prendo un highlight di questo diciamo di tutta questa community perché il nostro amico maurizio che è un membro lancia proprio in questi giorni a febbraio questa sua iniziativa con la sua società che si chiama once upon a place che sono cinque giorni di formazione workshop ed esperienze su turismo e comunicazione a laconi in sardegna e dal 22 al 26 febbraio un bel posto tra l'altro sì un posto incredibile due cose veloci praticamente per chi vuole raccontare il territorio imparare a raccontare luoghi e questo è un posto ci sono un sacco di ospiti poi c'è anche c'è neanche uno secondo me anche tu immagino esatto no ci sono anch'io il 22 il 22 maggio sono in sardegna faccio queste questo tre ore di workshop slash speech slash qualcosa su creatività varie cose tu sai che ti pesi appena arrivi in sardegna e ti pesi dopo ti sei sei ripartito non sarai la stessa persona sto 24 ore è vero stai proprio lampo perché 24 ore ma temo la cena bellissimo mangiato benissimo tantissimo fantastico bellissimo però c'è una cosa interessante perché ne parliamo oltre al fatto che chiaramente è interessante perché c'è un codice sconto proprio solo per gli ascoltatori di hacking creativity risparmiate ben 100 euro su questa cosa per cui il codice sconto lo mettiamo in descrizione volete farvi un bel girettino in sardegna bene e guarda io ti devo salutare no ti devo parlare di un'altra cosa perché c'è un sito molto bello molto bello che si chiama our world in data c'è il nostro mondo tutto sui dati ah beh il mio lo conosci no ma è l'area di mia competenza sai che mi sto specializzando in data science il tempo libero il punto di vista diciamo di questo di questo sito research and data to make progress oxford research and data to make progress against the world's largest problems cioè praticamente tutti i dati che ti fanno capire la situazione del mondo eccetera no perché ne parlo perché il sito è una figata e perché hanno su un altro un altro articolo un altro link hanno intervistato la head of research di questo di questo sito ok ci sono due cose che mi hanno colpito te ne dico una in realtà le chiedono quali sono i problemi specifici no chiaramente tu pensi climate change ed è chiaramente un problema però lei a un certo punto si ferma su questa cosa e dice migrazioni più o meno il non tanto quello ma la definirei la lotteria della vita ok cioè nessuno ha le stesse opportunità tu dirai grazie è evidente però il più grande fattore lo dicono i dati non è che lo dice il più grande fattore determinante del tuo successo del tuo reddito della qualità della vita è determinato dal luogo dove nasci luogo dove nasce livello mondiale ma poi facendo zoom anche il luogo dove nasce in italia volendo sì 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 oppure pari del mondo ok sì sì assolutamente però il senso è che il talento è ovunque ma le opportunità no per cui questa cosa che mi ha fatto riflettere tantissimo su quanto siamo fortunati e quanto uno effettivamente ha vinto la lotteria quando nasce in un posto tipo il nostro quindi dove hai avuto comunque un'istruzione dove hai avuto tutte le possibilità del mondo poi uno sarà giocato in un modo o nell'altro uno ne ha di più di meno ci mancherebbe altro guarda infatti viene in mente un film che c'è adesso su netflix le nuotatrici cosa l'hai visto no il mio sogno è quello di nuotare alle olimpiadi in siria è scoppiata la rivoluzione lo straconsiglio vi dico l'inizio due ragazze siriane entrambe nuotano a livello professionistico col padre allenatore a un certo punto insomma sappiamo cosa è successo guerra e decidono di scappare loro due dalla siria è un viaggio incredibile da passando per il mare per la terra per arrivare fino a berlino e a berlino neanche non finisce il viaggio continuo insomma varie problematiche burocratiche eccetera però mi ha colpito molto adesso signor sceneggiatore mi aiuti prego però perché forse siamo anche portati a considerare chi arriva da noi attraverso il mare come degli estranei no sono loro insomma chi arriva da quei mondi qui la storia la partenza è quella di due ragazze come se fossero due ragazze di roma di milano che escono con gli amici vanno in discoteca perché la situazione era quella lì no inizialmente e quindi sono due ragazze con con una vita normale catapultate in quel tipo di fuga estrema no per cui ti immedesimi tantissimo sì sì no me lo voglio guardare però appunto il tornando chiudendo il cerchio che abbiamo aperto all'inizio rispetto allo storytelling perché queste storie funzionano no queste storie ti toccano e non le vedi come estranei perché vedi la storia della vita di queste persone ti fermi un secondo e crei questa parola che hai detto empatia no empatizzi molto se tu senti ci sono 500 persone che premono al confine folla massa non va nella parte del cuore va la parte del cervello e dici questi sono invasori questi sono diversi questi sono cioè quando poi torni sulla base umana cioè sul fatto che sono esseri umani come però devi fermarti e guardarli uno per uno tra virgolette allora a quel punto il tuo diciamo la parte buona il tuo essere umano di solito si spera esce un po di più no per cui hai fatto un ottimo esempio perché proprio in questa direzione va il mio discorso che secondo me ci porta anche un po alla fine di questo link te lo dico perché qui caro nick che se qui non ti chiediamo sigle ma ti chiediamo dei commenti diciamo sonori pensati con un certo stile ok quindi stiamo dicendo che siamo fortunati perché siamo nati nella parte fortunata del mondo abbiamo avuto un sacco di possibilità e guarda come ce le stiamo giocando de merda perché questa è la verità cioè ci sono delle persone che nascono in siria e che fanno qualsiasi cosa per arrivare all'olimpiadi ok e la loro vita diventa da ordinaria a straordinaria e loro devono superare ostacoli incredibili noi non abbiamo ostacoli incredibili e ci accontentiamo tantissimo ok di fare cose ordinarie quindi di fare quel lavoro lì di non di non andare a fare quel passo là perché ti dico tutto questo che non è la prima volta che faccio un discorso del genere lo sai lanciando un corso su no come cambiare vita nessun corso no no nessun corso ma oggi questa mattina mi sono ritrovato da solo davanti al computer davanti a un video youtube a singhiozzare come non mi succedeva da quando ero un bambino di 5 anni cosa c'era ok ho visto uno dei video che mi ha fatto più pensare negli ultimi anni rispetto proprio a il mio ruolo nel mondo il mio potenziale versus quello che io faccio e qui faccio un piccolo inciso e facciamo un dietro le quinte di hacking creativity ok noi abbiamo appunto valentina elisa che ci aiutano nick mirko eccetera no e nella nostra chat no quando parliamo di come organizzare le cose l'ultima cosa che facciamo mettendo nei casini tutti e c'è trovare il titolo alla puntata all'ultimo per cui arriva sempre arriva sempre all'ultimo poi noi abbiamo collaboratori gentili ma evidentemente ci stanno a cagare ogni volta perché esatto perché ci potremmo mettere un secondo per cui questa volta io adesso ti detterò il titolo che tu accetterai senza riserve perché il titolo farà il lancio al racconto di questo video youtube mi dici prima il titolo vai il titolo della puntata di oggi che sarà la 149 quindi stiamo arrivando a 150 si chiamerà con i piedi ben piantati in cielo seo scarsa clickbait scarsa va benissimo emozione altissima curiosità è vero è vero chi è che mi ha fatto singhiozzare chi è che oggi mi ha fatto stai creando un'aspettativa che oggi mi ha fatto riflettere sulla mia vita e mi ha fatto capire che il mio potenziale è al 5 per cento di quello che potrei fare per me e per il mondo chi è è mr beast no che palle mr beast 24 ore fa ha rilasciato un video che fa singhiozzare perché ha ridato a mille persone la vista ha pagato mille interventi di persone che non vedevano ok e ogni c'era il tizio il ragazzo che aveva perso la vista con un incidente di go kart vedevano tutto solo ombre non solo gli ha fatto gli ha ha pagato l'operazione ma quando gli ha tolto le bende gli ha fatto trovare una tesla però queste diciamo sono le cose da mr beast regalino una fa molto ridere arriva questo questo signore e che ha perso il lavoro perché non vede più ok perché stava tipo alla cassa e non vedeva i soldi gli ha fatto vedere una scritta classica del secolo dell'oculista no con le scritte sempre più grandi ti do un milione no ho appena ricevuto 10 mila dollari e non riesce a vedere no fa l'operazione torna lì adesso riesce a vedere ho appena vinto 10 mila dollari sì adesso lo leggo ecco eccoli qua valigetta track 10 mila dollari allora no è controverso è sempre esagerato certo va benissimo poteva donarli non fare il video possibili critiche certo sì però comunque mille persone adesso vedono grazie a lui ok se leggi i commenti su youtube sono stati commenti su youtube che hanno scatenato il mio singhiozzo ma tu pensa scusami scusa a essere degli sponsor se anche fosse questa operazione agli occhi è stata donata da ikea non lo so se è uno sponsor a caso chi se ne frega va bene cioè anche se fosse così però perché perché ti smuove e mi smuove così tanto perché ci sono e ritorniamo a chiudere il cerchio due volte ci sono le storie ci sono le storie delle persone ci sono c'è l'immedesimazione di persone che non riescono a vedere e che grazie a una persona vedono e quindi io mi chiedo no perché noi stiamo qui e non facciamo delle cose straordinarie edo perché stiamo qui a fare dei lavori di cui non ce ne frega un cazzo io stamattina ho detto ho bevuto un caffè in meno mi sono sentito un figo e vedi c'è mister no no è chiaro questo questo è il punto cioè dove stiamo cosa ma lo dico per me non voglio fare quello che dà lezioni agli altri lo dico proprio per me io pianto perché mi sono sentito una merda perché ho sentito che stavo sprecando un potenziale enorme una fortuna enorme che ho avuto e quindi come si fa io lascerei cliffhanger come si fa nella prossima puntata ognuno darà delle proposte su come può nel suo piccolo cambiare il mondo mi piace però per chiudere e perché qui nick sento che sta preparando delle musiche incredibili chiudiamo con questo titolo che a te non piace perché non è abbastanza seo invece a me piace perché secondo me lascia le persone che ci ascoltano con questa domanda cioè cosa possiamo fare per noi stessi e per gli altri e per il mondo con i piedi ben piantati in cielo signori sigla sipario ciao a tutti ci vediamo la prossima ci vediamo settimana prossima con intervista stefano nazi di indagini ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti